Per il momento del topico, il 2005 pa' di lante, il mese psichico è tendenza per il 2017 e il 2018, una cosa che non è arrivata a un presupposto balanzato, e si dannifica un deficit presuppostare di massimo 0.5%. E' un presupposto fiscale per l'altro anno del governo, programma differente arreglo, come essere giudato a basso nel pubblico. E' un sacco di personale, e' un'altra cosa, ma lo che sta è obbligazione nel governo. Il ministro di Finanza sta a ripasare con la bassa quantità di gente nel apparato pubblico a traves di differente esercizio. Presupposto supletore del 2004 non è stato ancora per la discussione formal, però il ministro di Finanza ha segnato a che ha incorporato differenti le ricomendazioni di la Secretaria della Commissione di Supervisione Financiera, CFT. Ademais, preparando il presupposto del 2015, il Consiglio di Finanza ha accordato a ejercicio che il proprio CFT ha raccomendato, tra l'altro una linea buona definita e tendenza per il presupposto nel futuro. Noi abbiamo confermato il presupposto nel 2005 che va avanti, ma è stato di tali, ma è stato un trend che nel 2007 e nel 2018 è arrivato un presupposto a balanzare, quindi anche il deficit è tra più della metà e meno della metà, più della metà e meno della metà. E' questo è normalmente lo che si chiama un zero deficit. Il Consiglio di Finanza ha accordato un presupposto che la proiezione arriva diversi anni. Chissà, un dia appunto non ha di gran relevancia di ejercicio non per riduzire personal, maniera segnalata nel presupposto del 2015. Il Consiglio di Finanza ha aggiungato un periodo di pensione di pensione di pensione di pensione di pensione di pensione di pensione. Il Consiglio di pensione è gradualmente riducito il volume di pensione di pensione di pensione. Nel momento in cui il presupposto supletore il governo ha avuto 170 milioni per garantire un quadro di cobertura completo per l'APFA per il futuro, riduzire il gaso di pensione di pensione di pensione di un governo fuori di diversi angoli. Il governo da Cherecu, del dialogo sociale, ma è revaluato anche chi contiene il nucleo di governo. Lo va a farlo nel 2025 un assimiliano di dialogo, per lo che si tratta, è un tarea, è un paquete di un arsenal di servizi che il governo di Arroba e l'Ombra si va a farlo nel futuro. E se che non conosci, va a farlo analizzare e avalare esattamente quanti servizi non possiamo avousi, per l'ordine non, avutando le circostanze del paese. ci sono un consiglio di una Plataforma Nazionale. Il mese d'anno passato, discutiamo il reto di carattere nazionale di dialogo sociale e la Plataforma AQI, il servizio del governo Mestri Duna, lo aiuta a reorganizzare il apparato pubblico, ma meno servizio di governo. E naturalmente l'idea è di riduzire il paquete di servizi, anche per lo privatizzare. Ci sono diverse idee, ci sono diverse decisioni che vogliono prendere. In ogni caso, se in una turma si rai nella realizzazione del presupposto del 2005, il nostro comissario, per esempio, ha fatto un processo per privatizzare una parte di Direccii d'Urte, una parte di Vosso Zontale, il lancio del laboratorio è un processo per privatizzare. Giofani Möller, notizia buona notte. Il ministro di Finanza ha in un quadro di segnalare il servizio con un nettamente mestiere di tali di governo, avvisa con lo realocare il servizio di posta ruba per non avere un subsidiario di CETAR. Grazie.